Ehi, come stai? Spero bene. Sono contenta di passare un po' di tempo assieme stasera. Ti aiuterò a metterti comodo a letto. Queste coperte hanno anche un suono molto rilassante. Quindi ti sistemo un po', dato che ci sono. Avvolgendoti delicatamente. E' sempre bello quando qualcuno ci avvolge il sistema di coperte nel letto. Un po' qua davanti. Come ci si sente? Bene, vero? Sì. Poi il corpo. Ok, ora che ti ho sistemato un po', scegliamo l'olio essenziale da usare nel diffusore. Allora, partiamo da questo. Questo è pumilio, olio essenziale. Rilassante alla camomilla e fiori d'arancio. Questo è un po' qua. Allora. un odore molto buono, delicato quindi questo è il primo poi lavanda questi li ho riempiti io la lavanda, come si sa, è molto calmante poi qui abbiamo rosmarino quindi può aiutare anche a liberare le vie nasali se hai un po' di raffreddore ok poi eucalipto, questo anche aiuta a liberare il naso e fa bene alla gola eucalipto eucalipto quindi tutti odori molto buoni che fanno bene quale mettiamo? lavanda? certo, pensavo anch'io allora, prendo il diffusore, eccolo qua allora, prendiamo l'olio alla lavanda accendiamo e sta iniziando questo fa anche un bel suono di white noise e così creiamo l'atmosfera giusta per rilassarci e dormire lo poso e poi dopo lo spazio lo spengo ok, allora adesso invece volevo pulirti un po' il viso con un tonico così così ti senti anche più con la pelle fresca detersa e questo può aiutare quindi prendo quindi vediamo 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 userò userò questa acqua di rose che è naturale e anche e per belli sensibili ok allora qua sulla guancia destra scusa sinistra guancia sinistra destra scusa mi sono stanca fronte metto qua così naso e poi ti muovo un po' su tutto il viso non clean 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 ok Ok, potresti sentire la pelle già più stretta, una sensazione piacevole, sì. Ok, adesso pensavo, se non hai ancora sonno, di fare un po' di face brushing, che ne dici? Ti va bene? Allora, ho il mio pennellino, ok? Ok, allora, brush, 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 lentamente attorno al tuo viso, il tuo bel viso, che merita di riposarsi. Le setole morbide ti accarenzano la pelle, e lentamente tutto si appesantisce. E' molto confortante, secondo me, avere qualcuno che si prende cura di te prima di dormire. Tap, 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 tap. nup 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 brush 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 allora spengo solo il diffusore ok adesso invece volevo fare un po di face tracing ovvero tracciare il tuo viso con le dita questo mi ricordo mi piaceva tanto da bambina il naso guancia mento guancia fronte poi al contrario fronte guancia mento guancia e fronte e naso tracene tra tracene 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 cerca di liberare la mente suotala da qualsiasi pensiero che non serve Anche se è un momento difficile, tutti abbiamo difficoltà, quindi trova conforto in questo. Non sei solo, tu sei una persona amata e so che hai tanto da dare e meriti anche tanto e lo avrai. Sì, ma prima pensa a riposarti. Può essere anche ipnotico seguire il dito. Ci sono per te quando hai bisogno. Mi rende molto felice poterti rilassare e dare un po' di sollievo. Davvero mi riempie di tanta gioia. Ok. Adesso passerò le mani qua sul tuo corpo e puoi immaginare questa delicatezza dei movimenti proprio sulla tua pelle, anzi sulle coperte che ti avvolgono. Ok. Allora adesso passerò le mani sulle tue spalle. Un bel massaggio qua. Premendo un po' la pelle e poi rilasciandola. E' importante rilassare i muscoli e massaggiarli. Adesso sul tuo petto. Mi allontano sempre di più percorrendo il tuo corpo con le mani. a Tingkat un po' la pelle e poi rilassCon ridotta. Questi movimenti delicati, graziati, fino alla punta dei piedi, e siamo tornati in cima. Adesso premo un pochetto, faccio un po' di pressione per rilassare ancora più a fondo i tuoi muscoli. Grazie. Ti è piaciuto? Bene. Io adoro quando vengo, diciamo, massaggiata dolcemente a letto da qualcuno che mi vuole bene. Può essere un familiare, un amico, un'amica, compagno, compagna. E adesso avvicino un po' di più la coperta, così proprio da avvolgerti. Eccomi qua. Allora, spero ti abbia rilassato il massaggio e che adesso tu sia un po' più pronto per crollare e andare nel mondo dei sogni che ti aspetta. E domani ti risveglierai super riposato. Super, super. A me piace anche molto quando soprattutto da piccola mi canticchiavano le canzoni prima di dormire, senza dire le parole proprio così con la voce, la bocca chiusa. Magari lo faccio anche io un po' adesso e ti può aiutare a rilassarti ancora di più. Ok. 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 Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Allora adesso per concludere farò un po' di lettura in audible, come richiesto. Sì. 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 sono rubinette pronte, viso ancora più scuri che sono la vasta stessa d'acqua in ogni lingua che giocano i scintillano ardenti che dall'ardetta aldezza e radiante ti ho guardo giù contempla con un convincimento e bontà questa parte delle montagne questo lago non sovrima con paesini, piccoli conventi, mandorie, fumi e prezzi mi ha smagliato e giocano, poi mangi un canone buono il canone è bellissimo ok, adesso crolla, crolla, crolla buonanotte, buonanotte, buonanotte